Dottor Corradi, un commento sullo stato dell'arte e su questo annual. Buongiorno, interessante soprattutto il tema trattato sul deterioramento delle relazioni del sistema con i consumatori e sul fatto che una parte molto importante di quella che è l'opportunità digitale non viene colta oggi dalle assicurazioni per reinventare come loro interagiscono con il consumatore. Una cosa che vediamo negli altri paesi è essere molto più pronunciata di quello che finora hanno fatto le assicurazioni italiane trovando diverse modalità, non solamente in ottica difensiva magari per interagire in modo più diretto nel momento del sinistro quanto nell'ingaggiare in un modo nuovo, emozionale, più ricco i clienti. E' una cosa strategica per le assicurazioni perché i tassi di abbandono sono più che raddoppiati in 5 anni e mette a rischio veramente il sistema. Riuscire a fare investimenti di questo tipo, anche importando in Italia cose pratiche che hanno funzionato, abbiamo visto in altri paesi, potrebbe essere una cosa molto importante per le assicurazioni italiane. Riuscire a fare investimenti di questo tipo, anche importando in Italia cose pratiche che hanno funzionato,